Un ritorno al passato con uno sguardo al futuro. Su questa scia Aspes disegna il lungomare pesarese, proponendo nuove aiuole che a Ponente porteranno il numero delle zone verdi a 18, opere e decorazioni che ricordano i giardini della palla di pomodoro di un tempo, ma che allo stesso modo osservano al futuro, all'insegna dell'ambiente, grazie al risparmio idrico che attenua costi e utilizzo dell'acqua. Per il 25 aprile dovremo essere pronti ad accogliere la città, nella città turisti pesaresi nel modo migliore possibile. Stiamo facendo questo grande lavoro di rifacimento di tutte le aiuole della parte di Ponente, compresa i giardini della sfera grande di pomodoro, cercando di andare a ripercorrere in maniera più contenuta quello che erano anche gli elementi e le tipologie del passato, quindi gli animali fioriti o meno, insomma un lavoro che vede Aspes coinvolta su indicazione del comune in maniera così molto anticipata anche rispetto agli anni scorsi perché la Pasqua e poi il 25 aprile ci hanno fatto iniziare molto prima i lavori. Diciamo che abbiamo fatto questo tipo di scelta un pochino retro per andare incontro a quello che erano appunto i giardini del passato e anche perché questa tipologia di aiuola dal punto di vista ambientale ha un consumo di acqua molto limitato rispetto alle aiuole fiorite che comunque sul mare si alterneranno con questo tipo di tipologia. Pesaro sempre più bella, fiorita e accogliente proprio per così mostrarsi nell'anno della capitale della cultura all'Italia e al resto del mondo proprio nella sua bellezza e nella sua magnificenza. Per così andare incontro anche quello che è il tema che traccia l'anno della cultura, capitale della cultura di Pesaro e la transizione ecologica è uno degli elementi fondanti su cui si basa il programma della città e in cui si vuole mostrare agli occhi dell'Italia e non solo dell'Italia e noi con questo tipo di installazione vogliamo appunto andare incontro anche a questo argomento.